Le prove di un workshop coreografico a cura del noto ballerino e coreografo barlettano di fama internazionale Mauro De Candia finalizzate alla creazione della performance opening non sono che un assaggio di ciò a cui appassionati e non potranno assistere venerdì 29 aprile e poi ancora il 6 maggio a Barletta presso la chiesa di Sant'Antonio. Per la prima volta in assoluto lo spettacolo sarà realizzato con le docenti di danza delle scuole del territorio che hanno aderito all'iniziativa. Io più che trasferire direi che sono loro che mi stanno trasferendo delle informazioni, mi stanno trasferendo delle emozioni e insieme stiamo cercando di metterli insieme per fare questa apertura che rappresenta poi anche questo taglio generazionale, questa attenzione al territorio che Stefania anche con la sua rassegna pone dall'inizio. Possiamo dare qualche anticipazione dello spettacolo di domani sera, che cosa vedremo sul palco? Beh, le insegnanti di danza, questo non è poco, è un evento, è tutto insieme, è la prima volta che questo avviene, quindi anche è un momento se vogliamo storico nella storia della danza di questo territorio, quindi sicuramente è un momento da celebrare, visto che domani è la giornata mondiale della danza, penso che sia una celebrazione più che idonea. Così si apre la rassegna azioni di danza, ormai giunta la non edizione, sostenuta dal Comune di Barletta e realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese, curata da Stefania Donofrio. Il 30 aprile in cartellone anche in bira della compagnia Aldes. Le altre date della rassegna sono il 6 e il 7 maggio. Dieci le performance, pronte ad avvicinare e ad affascinare anche i giovani al mondo della grande danza. Siccome non sempre è possibile esibirsi in teatro perché magari si è dei giovani danzautori, dei giovani coreografi, Azioni in Danza è nata proprio per dare spazio a queste realtà, a queste eccellenze, perché si tratta tutte di eccellenze del territorio. Infatti ci saranno tre danzatori barlettani che sono Elisabetta Lauro, Sara Bizzoca, poi c'è Davide Verrosso che è un pugliese e tranese che presenterà un pezzo con un musicista barlettano, che è un contrabassista, che è Paolo Di Nuzzi. E un'altra pugliese che è Claudia Calderano, in scena domani. Poi ci sono le compagnie nazionali che sono collegate al circuito degli anticorpi perché questa è una rassegna che ha il sostegno del comune di Barletta e del teatro pubblico pugliese. E quindi ci sono pezzi in programmazione con il circuito di anticorpi XL che è una rassegna appunto per i giovani coreografi, i giovani danzautori.